Terreno amaro, anteprima, Alirame farà una terribile scoperta. Nei prossimi episodi di Bitter Earth, Alirame farà una scoperta scioccante. Secondo gli spoiler della telenovela di Canale 5, il padrino di Ilmas Akaya comincerà infatti a sospettare che il nipote Fikre nutrà rancore nei confronti di Demiriaman. Tu hai iniziato quando il giovane è andato alla tomba del defunto Adnan e ha distrutto la sua lapide con un grosso sasso. Fikre prenderà molto sul serio questo gesto poiché sarà accecato dall'odio che nutre per la famiglia Yaman. Il nipote di Alirame particolarmente odiava a morte Demir perché era il figlio bastardo del defunto Adnan. Quest'ultimo, quando era solo un bambino, non volle riconoscerlo e lo abbandonò. Da parte sua, il fratello di Alirame, Musa, dopo aver scoperto che sua moglie aveva una relazione con Yaman, ha cacciato di casa la donna e il ragazzo Fikre. Il ragazzo, quando si trovò al capezzale della madre malata, poco prima della sua morte, le giurò che avrebbe vendicato gli Yaman. Terreno amaro, anteprima, Fikre distruggerà la lapide di Adnan e Yaman pertanto, Fikre distruggerà la tomba di Adnan con aria di sfida. Poco dopo, Demir ha scoperto cosa era successo ed è rimasto scioccato. L'uomo d'affari si chiedeva chi potesse commettere un atto così meschino e rozzo nei confronti di un uomo morto da così tanti anni. Da parte sua, Fikre vorrà approfittare dell'espressione del nemico appresa la notizia e fingere di essere confuso dal gesto. Intanto qualcuno scoprirà che è stato il ragazzo a rompere la lapide di Adnan e ad informare Alirame. Infatti, un conoscente di Fekeli sarebbe stato al cimitero nel momento esatto in cui il giovane ha commesso questo atto terribile ed è venuto a dirlo all'uomo. Alirame, come dimostrano le anticipazioni di Terra Amara, sarà sconvolto da questa rivelazione e stenterà a credere che suo nipote possa fare una cosa del genere. La Terra è amara, Alirame è determinato a scoprire perché suo nipote odia la famiglia Yaman Alirame. Dopo aver appreso che Fikre ha distrutto la lapide di Adnan e Yaman, è determinato a scoprire perché il giovane odia così tanto la famiglia Yaman. L'uomo, infatti, non capirebbe quale possa essere stato il motivo che ha spinto suo nipote a commettere questo atto orribile. Nel frattempo, Fikre continuerà a tessere la sua tela contro Demir, e per distruggere i suoi nemici si servirà di un pericoloso alleato. Per scoprire l'identità della donna in questione, non perdetevi le prossime affascinanti puntate di Terra Amara.